Cipolla a tutti ragazzi, sono Dersman Oggi stiamo tratti su A Stranier tutto solo e... C'è una persona che vola Mi scusi Mi scusi, perché lei vola? Venga Grazie Poi c'è qualcuno qua dentro Ma che c... Ma il signore è là dentro, lei è cieco perché usa il bastone Il signore... Il signore... Buongiorno, ho un problemino L'aiuto io, aspetti, aspetti Il signore è altro che volava Il signore volava, non mi devi fare questo atterrare Oh, oddio Ma siete amici voi due? Eh no, io non lo conosco questo Tu merda Ma che ci fa nel mio camio, scusi Scusi, che ci fa nel mio camio L'ho preso in prestito e mi vogliono male Ma che fa? Il signore che vola Aiuto Non fare così No, 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 preferivo stare sotto Preferivo stare sotto No, fermo, no, fermo Il camion è mio Il camion è mio Basta Il camion è mio Il signore che volava Signore cieco Signore cieco Signore cieco Signore cieco? Anzi, signore talpa Signore che volava Io sono seduto Dimmi Voli Signore... Questa è la mia... Questa è la mia... Signora... Signora, posso dirla una cosa? Signora, posso dirla una cosa? Signora, posso dirla una cosa? Voli Io? Vola 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 Il signore volante ti faccio vedere io Va bene Vola No dai, sentetemi Ti faccio vedere io Fermo Lasciala, lasciala Il signore volante deve... Levate Levate Il signore volante Vola Lasciami 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 Volevi Aspetta Aspetta Volo io, madonna No Mettimi Oh Oh, signore che... Era cieco Io sono Signore cieco Dove vola? Signore cieco Signore cieco Signore cieco Signore cieco Allora io mi rubo questo Che caccia Allora io mi rubo questo Ma ho fabbricato così tanto Oddio Mamma Dio Dio santo E' mio Ragazzi E' mio Aiutatemi E' mio Io sono femmino 40 Arriviamo Qua Tra tre Due Ti sto qua mi lascia magari Oh grazie Lasciami Ok Dov'hai Dov'hai voi Io sono nascosto fra le piante La Esci Esci No Esci Esci No Mai Esci dalla scoperta No Non fate la parola Non sono ancora morto Non sono ancora morto No Ok Il signore che vola Il signore che vola Adesso sta nel luogo al contrario Che bel bug Il signore che vola Ah pensavo fosse volato nel mondo Ma Signore che vola No Pensa cosa signore gaming Trossi Ma dove è il signore che vola Fatemi morire con la Ma va bene Mi sono convertito a signore talpa io eh Ah adesso lei è diventato signore talpa Eh Signore cieco Signore cieco Signore cieco basta volare È mia signora gaming Che fa signore che vola Ma è messo un'unzione talpa Ma il signor talpa Basti Facciamo cose belle Facciamo cose belle Ma che cosa stiamo facendo Quoi tre Ma non lascio Aiuto 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 E questo treno Io dovevo fare Allora Sarebbe diventato un grudiere Ma io dovevo soltanto fare un Fottissimo video Qui E basta E arrivate voi E fallo Devo dire Eh ma lo sto già facendo Io sto Io sto 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 notando eh Nooo Yeeeh caverne Come caverne E caverne Come caverne Io sto notando nelle caverne Meeeh La raggiungo a me servono materiali Meeeh Allora Sotto una Oddio cosa cavoro di Cosa cavoro di Cosa cavoro di verde Eh Oddio Signor eh Signor Come posso chiamarla Signor che Signor talpa Dove siete Arrivo Oh Signor talpa Dov'è lei Sono finito nel buco dell'organico Io sono nel muro Sì Ma capito Nella fossa dell'organico Quanta male la kit E tornerei da te Per dirti Ciao Mi sono gricciato Ciao Ciao La sparva La sparva Ma Sputtiamole nulla Yeeeh Ma dove siete? Siamo pagati nel terreno E' presente il bug quando Ah si 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 Ma vede la mano Mello 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 Oddio Troppo malachite Non posso raccogliere Ho troppo malachite Ragavite da aiutarmi Perché ho troppo malachite Arrivo Arriviamo Aspetta che mi vengono il primo posto perché non si muoio c'è un perché a bensi almeria e di valutare io ho trovato una miniera cioè ciao algeri ma non so vedo un corpo morto aspetta aspetta vabbè tanto sai come tornare alla prossima il gioco il primo posto il giorno è oggi e il 30 dicembre 1924 io il gioco vero cosa eccolo ciao aia prenditi questa malachite sono morto ah bello ma sono esplosi i tuoi oggetti ma sono esplosi gli oggetti dell'uomo talpa ci sta anche il primo posto ma sono esplosi gli oggetti dell'uomo talpa non so come sono riuscito a portare il primo posto là sei felice ma sono esplosi gli oggetti dell'uomo talpa si è bloccato pure un camion ma arriva il camion no 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 dai no va no cuccia allora questi teeter quanti teeter avevate? vuole che è un ladro vuole oh ma venite qua a riprendervi la vostra roba ma e non so dove aspetta mi gliccio oddio santo mi sto doliciando eh divento un cinese va sono cinca senza offendere i cinesi ma io odio un cinese perciò offendo quel cinese eccomi arrivo arriva super sparvasterino perchè allora super sparvasterino ha una batteria chiedo no sto volando giù no aiuto aiuto no non voglio volare no wiii si aio wiii si ok allora la tua roba è quella questa qua è questa qua lascia quella è questa la tua non è esplosa non so perchè e la tua roba ti vuole bene questo è questo è ora prendi questo e portatelo sopra ma io devo portatelo sopra non mi interessa ah dov'è 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 dove si sale ecco non lo so fai una specie di scala fai una scala sono salito col primo posto ma fai una scala aspetta allora ho portato il primo posto sopra adesso qual'è il buco ehi signore talpa signore cieco eh eh prenda la palla dia ok le porto alto no sta cascando la tua palla aiuto come come cascano le palle perché aiuto non riesco a no no troppe palle aiuto aia 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 ma ci sono troppe palle che girano aiuto stanno no mi sei guadagnato sto ricascando le palle dai aiuto ecco ma io sto prendendo le altre palle signore eh ma cascano palle ma perché stiamo parlando di palle quando questi sono cose che non sono palle mi dispiace lei è stato sepolto come sono stato sepolto ha una compagnia che si chiama uomo talpa pompami tenga l'altra palla rossa ma cosa stacca tutta aiuto casca la tua palla no tenga le palle ma cascano aspetta oh ok no 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 eh ok ci sono bugate ok signore può portare questi materiali sopra che sono del terzo signore che ho sono ok ho 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 Ehm qua stanno un botto di batteria Arrivo E perchè come tutti sappiamo I signori Talpa Tutti i signori Talpa sono ghiotti di batterie Vadi 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 si butti si butti si butti si butti si butti Morbido E si ci sono io a vedere E' morbido è morbido è morbido è morbido E' morbido era morbido prima ora non più Ma non era morbido Si Mi avete mentito? No lui ti ha mentito io non l'ho mai detto Mi avete mentito? Io non l'ho mai detto niente Vabbè signori Talpa Io ho creato un accumulatore di palle Ho creato un buco Ho creato un buco Ho creato un buco e c'è sta mettendo un buco Che sta mettendo un buco? Che sta mettendo un buco? Mettici anche gli oggetti dell'uomo Talpa Tieni Aiiiiiii Vabbè prenditi tutti questi oggetti che stanno qua Ah dai agenti dell'uomo Talpa qua Eh i agenti dell'uomo Talpa lo messi nel buco Vabbè fermi No fermo uomo Talpa e devo darti gli oggetti Uomo Talpa i bubi? Uomo Talpa e un uomo Talpa se ne va? Aspetta ma devo darti un po' di ossigeno se no muori là sotto Ma eh 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 Vuoi essere? Dove è andato l'uomo Talpa? L'uomo Talpa? Nemi Come sei? Eh scelto Boh Cioè aspetta il soldi così Indio per l'uomo Indio per il mondo Guarda là Dove? La Where? La vicino a me Che vicino a te è Qua Che bello No avete l'energia Oh Hai capito dove? No Qui? Si si è buttato anche tu vero Tutti qua su tutti i anni Ma è buio Eh che sa che io ce l'ho da una torcia Ma io sono a cobb Aspettatevi il butto dei teeter E ti butti Se ti butti qui Senti ingegno E mi sono buttato già No nel mio arrivo E' appena una scendi Ah eh C'è un altro buco scendi Proceso Noi teeter cascchano nel buco di uomo Sono raccolti Buttati Attacca Ora però ho trovato un modo per risalire Io me ne vado Buttati No E' cattivo E' cattivo E' ne vado Ciao 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 E' cattivo vivo Questa mafia Perché sta Pazia Questa pazia Pazia Ah si No Pazia Ciao Il mal è ca sotto No Io ho un organico Mi vuole bene Voi non Pazia Ma il granico Voglio bene Perché è un organico Organico è la mia cosa mi muovete Organico muovete troppe palle Organico è mio BASTANO TROPPPE PALLE Abbiamo un problema Tu hai un problema io posso anche scendere Sto muovendo Arcanico andiamo Arcanico andiamo Andiamo verso la morte Mi penso io Scava 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 Vai organico pensaci tu un portato si sono il mondo, fuori c'è una tempesta ti sono, salva se scavi un po' avanti eh raga fate bene e rimane da sotto perchè fuori c'è una tempesta sto risalendo il mondo io wiii volevi ma io avevo le cose ma no ma stessi stessi non lanciare stessa 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 hai ma voli dario mi sono portato la cosa che avevo in mano a casa che stupendo mentre morimo non vola ciao ciao dario ma che merda sto titanio perché c'è la pentola io non so che ascherò giù aspetta ti faccio un regalo walti lancio dell'organico walti lancio dell'organico se vuoi se vuoi ho un po' di carbone vuoi un po' di organico ciao la pentola dario la pentola ma perchè ma pure in queste canne mi sono mission complete io ho ho una pentola più grossa la vuoi anche guarda il generatore oh sapete che vi dico io me ne vado guarda che abbiamo trovato no raga io vado verso l'infinite di ed oltre grazie ragazzi ti vuole venire verso di me addio ma dai non cio ma su stasera per dai non cio ok io mi vado ciao dove vai ah se va nel mio buco ma io in tu in tu da mai buco aspetta walti 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 si è dimenticato l'organico aspetta per niente male perchè c'è l'organico no 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 organica è l'unica cosa che vuole no non dai non mi puoi spiegare che vuoi perchè qui hai si è perito della malachite no no ragazzi che sta dovevi perchè c'è l'organico gigante abbiamo un problema sotto la base di dario ehm sparma mi fai il favore l'organico gigante sparma non so di salire non c'è luce ma se c'è un botto di energia ossidio allora dice mi fermi spazio walti dovete l'organico gigante è lungo oh te grande il tuo organico ok oddio chi è che è salvato la partita mi ha fatto la gara con un cane se vuoi andare se invece no entro vabbè se vi è piaciuto questo video lasciate un like iscrivetevi commentate noi ci vediamo in un prossimo video ciao gente aaaaaaaaaa ciao a tutti